Che cosa sta facendo e che cosa intende fare il Governo? Noi vogliamo come sempre difendere l'interesse nazionale, instaurare chiaramente un rapporto che sia equilibrato con Stellantis, il Ministro Urso che qui con me ha incontrato più volte le persone in questione per difendere la produzione in Italia, i livelli occupazionali e tutto l'indotto dell'automotive. Con questo scopo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Associazione della filiera dell'automotive è stato istituito un tavolo permanente di sviluppo nel settore al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali e produttivi che si relazionano anche con Stellantis e per questo ancora abbiamo previsto incentivi come l'eco bonus per sostenere la domanda in misure di sostegno per attrarre nuovi investitori e nuovi costruttori. In ultimo abbiamo modificato le norme da una parte incentivando chi torna a produrre in Italia e dall'altra scoraggiando chi delocalizza che dovrà in questo caso restituire ogni beneficio o agevolazione pubblica ricevuta negli ultimi dieci anni. Vogliamo cioè tornare a produrre in Italia almeno un milione di veicoli l'anno con chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana. E questo significa anche che se si vuole vendere un'auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come gioiello italiano beh allora quell'auto deve essere prodotta in Italia perché questa è un'altra questione che noi intendiamo porre. Queste sono le regole con l'attuale governo e valgono per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.